La professoressa Ivana Franceschi, docente alla Scuola Media Scipio Sighele, si sta dedicando a un progetto di ricerca storica sul rione 2 giugno, ideale seguito del lavoro già svolto sul rione De Gasperi nel 2013. Il progetto si concentrerà sul panorama politico e sociale degli anni 70 rivani, quando si decise di creare da zero un nuovo quartiere sull'asse viario verso Arco, teorizzando un piano urbanistico che coniugasse edilizia popolare e servizio al cittadino, con al centro di tutto un'ampia zona con scuole, piscina, giardini e palazzina comunale. Si potrà avere un assaggio di questa memoria storica questo sabato in piazzale Mimosa Riva alle ore 17, durante l'evento artistico Utopia organizzato dal Museo Altogarda insieme al Museo Wunderkammer di Trento. Sentiamo le interviste. Qui leggo che i cittadini sono invitati a una performance di un'assemblea pubblica partecipativa al rione 2 giugno, cioè? È un'azione artistica che realizziamo in collaborazione con il MAG per la giornata del patrimonio, è una performance pubblica, cioè appunto tutti i cittadini sono invitati, noi rappresentiamo un'assemblea tipica partecipativa, quella con cui normalmente le istituzioni chiamano i cittadini ad esprimersi su un progetto, in questo caso è un progetto tra l'immaginario e il reale, che vuole attivare appunto la discussione pubblica. All'assemblea pubblica partecipativa di sabato, quale sarà l'argomento? Il mio ruolo è quello di annunciare l'avvio della ricerca su il rione 2 giugno e questa ricerca commissionata dal MAG verrà fatta con lo stesso impianto metodologico che ha visto la realizzazione della ricerca sul rione De Gasperi, che è stata pubblicata nel 2013, quindi una ricerca di impianto così diciamo politico-sociale, non urbanistico, perché non rientra nelle mie competenze, con il coinvolgimento dei testimoni significativi dell'epoca. Il rione 2 giugno è stato edificato negli anni 70 e 80, ha visto più strumenti urbanistici di attuazione e un coinvolgimento notevole da parte della popolazione, consideriamo che in quegli anni c'era anche il consiglio di quartiere e il consiglio di quartiere era stato veramente un'istituzione parteattiva nella progressione del quartiere 2 giugno.